salve a tutti ragazzi video che dimostra l'esistenza di qualcosa di paranormale semplicemente fantasma oppure entità guardiamo questo filmato che poi è registrato da una videocamera di sorveglianza non da un cellulare o altro guardate qui questa ragazza viene afferrata per i capelli e tirata dietro questa porta eccola qui vedete ragazzi quindi il video sembra parlare chiaro però io voglio fare un'altra cosa voglio abbassare la velocità perché così perlomeno riusciamo a vedere bene quindi ecco qui ho abbassato la velocità perché voglio vedere meglio guardiamolo perché non c'è ragazzi non c'è una mano che tira questi capelli perché vedete i capelli stanno giù improvvisamente vengono come attirati verso questa porta quindi ragazzi come sempre lasciate il vostro commento il vostro giudizio al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero